Dopo un anno siamo ancora qua, purtroppo in 30 anni non avevamo mai visto una piazza così desolata. Piazza Grande vuota, un'immagine che intristisce, che fa arrabbiare i tanti operatori del sistema dell'accoglienza retino, ma toscano, italiano in genere, perché come sappiamo si può con un biglietto d'aereo in tasca e un tampone negativo raggiungere alcuni paesi esteri, ma appunto non muoversi all'interno delle regioni italiane. Ci risulta incomprensibile capire perché io con un tampone negativo, con il vaccino, posso prendere un aereo e invece non posso venire a mangiare in Piazza Grande o a dormire oppure venire ad Arezzo per fare un fine settimana. Questo c'è incomprensibile, ma quello che c'è ancora più incomprensibile è che il rimedio, quando c'è stata la sollevazione popolare, lo sdegno popolare rispetto a questa norma, c'è stato introdotto il rimedio dei cinque giorni di quarantena, che sembrano un po' una presa in giro. Costanza ha delle strutture ricettive ad Arezzo, Firenze e in Versiglia, ha perso circa il 90% del fatturato, i ristori sono insufficienti. Sicuramente non sono sufficienti per il fatto che forse cofrono di questo 90% un 5%, ma scarso. Non ti hanno fatto sconti sulle bollette, relativamente sugli affitti o mutui, anche le sospensioni che hanno fatto, ma dei tassi di interessi in cui dopo vai a aumentare il debito futuro e quindi non so neanche quanto sia potuto possa convenire. Di quanta rabbia fa il fatto che un italiano possa spostarsi da una regione verso l'estero, ma non si può spostare in Italia? È l'ennesima incoerenza di tutte le cose incoerenti che ci sono state da quando è iniziata la pandemia, come lo stesso discorso che le mie bambine non sono a scuola con le insegnanti vaccinate, ma sono a casa con me, con i nonni non vaccinati, con le nonne non vaccinate ancora, perché non vecchissime. Ecco, quindi insomma è tutta un'incoerenza e quella è l'ennesima dimostrazione che qui è tutta un'incoerenza, che non lo sanno nemmeno loro più che pesci prendere, dai diciamoci la verità. Secondo i dati di Travel Appeal, Arezzo è la seconda provincia toscana con il più alto numero di prenotazioni. Dopo Grosseto si spera dunque nella bella stagione, un dato però che non sarebbe confermato dalle strutture alberghiere. L'immagine sbagliata è probabilmente che nelle camere magari degli alberghi non vengano utilizzate tutte le norme adeguate per la sanificazione, cosa che secondo me è più facile che lo faccia una struttura importante che magari una struttura più piccolina, senza togliere niente a nessuno, siamo tutti seri, siamo tutti per lavorare. Però ecco, io vedo che noi, essendo una struttura grossa, siamo anche soggetti a visite della USLE, eccetera, eccetera, quindi probabilmente noi saremo anche più adeguati rispetto ad altre strutture. Noi come tu e il Minerva abbiamo deciso di rimanere aperto per cercare di dare il servizio se è possibile, però ecco io stasera ho due camere, domani ho una camera, quindi ecco è giusto per dare un servizio sicuramente non per altri motivi. Non sperate che la bella stagione porti? Al momento no, perché non riesco a fare previsioni a medio termine, neanche a breve termine, perché da qui a un mese la situazione può cambiare completamente e con questo logicamente chi vuol fare anche degli eventi, vuol fare dei convegni è della solita situazione e rimangono fermi, non possono assolutamente fare una programmazione, perché poi devono invitare le persone, eccetera, come sarà anche la fiera dell'oro che ci sarà ora a giugno, che verrà fatta tutta diciamo online, non ci sarà la presenza, anche perché col discorso della quarantena, che uno la deve fare prima che arriva, poi la deve fare quando ritorna a casa, uno per star fuori tre giorni magari deve perdere un mese di tempo, che poi anche questa è una cosa un po' relativa, perché io ho parlato con più di un cliente che sono venuti dall'estero, arrivano all'aeroporto e nessuno li controlla. Allora, insomma, io rimango ormai quasi senza parole perché le ho finite le parole, le ne ho dette troppe, Ora siamo veramente la frutta e speriamo che questo nuovo governo riesca a darci una mano seriamente per poter ripartire.